buongiorno saluti siamo qui con laura cuomo presidente responsabile di la grande onda responsabile di aver messo su insieme ai lions un enorme convegno che si è protratto per una intensa e problematica giornale che ha visto interventi di vari sindaci e soprattutto presidenti di enti predisposti e responsabili intorno alla politica del sarno e al suo disinquinamento il coinvolgimento così tanto di questa grossa subregione è dato dal fatto che lo sfociare del sarno poi condiziona anche le coste della penisola sorrentina del tratto castellammare dove del greco e quindi donna laura si è soddisfatta dei lavori gli è piaciuto questo aprire dare la stura ad una serie di siamo soddisfatti il convegno lo stavamo sognando e preparando da quasi due anni con i lions perché è chiaro che parlare di mare della penisola sorrentina non può prescindere da quelle che sono le problematiche del sarno al di là di quelle che sono le problematiche del sarno in sé il convegno sicuramente penso che ha prodotto risultati molto interessanti visto anche il calibro delle persone intervenute e credo che comunque per noi sia un inizio di un lavoro che certamente continuerà e nella speranza che veramente si possa cambiare qualcosa il giorno dopo sui giornali sono apparsi degli articoli in cui qualcuno voleva sottolineare le assenze ma noi ci siamo preoccupati dei presenti di quelli di buona volontà di quelli che vogliono incominciare a rimboccarsi le maniche veramente io sono stata la prima a sottolineare le assenze invece io sono sempre molto critica e ho sottolineato volutamente l'assenza dei sindaci noi abbiamo invitato tutti i sindaci del distretto del sarno 30 39 sindaci e devo dire con noi titolamo con 50 sindaci per un fiume dobbiamo dire che non sono venuti tutti no diciamo che non sono venuti quasi nessuno per me questa è una cosa diciamo anche perché noi nelle urne affidiamo il nostro territorio alla tutela dei sindaci e questa assenza a me è pesata molto spero è un argomento scottante sicuramente non per giustificare gli assenti e di cui ognuno vuole avvicinarsi in maniera voglio sperare che questi sindaci che sono mancati al convegno a Sant'Agnello siano invece presenti all'appuntamento con il ministro Costa che li vuole incontrare tra l'altro era presente uno dei responsabili l'onorevole Lamura la dottoressa Lamura la quale conosce bene i problemi intanto noi ci permettiamo di dire come positano news perché conosciamo frequentiamo tantissimo quella zona proprio per registrarne in quanto il coinvolgimento del cronista era legato al fatto di quando il sarno è sonda noi siamo andati a vederla anche quando è tranquillo sia via terra che via mare è uno dei suggerimenti che ci permettiamo di dare a questa a questo coagulo che avete creato intorno alla grande onda è proprio quello di prendere un'imbarcazione da qui e portare la gente a vedere perché è solo se conosciamo riusciamo ad amare tra l'altro armatori come di leva sono sicuramente a disposizione con i loro mezzi per due ore due ore e mezza partire da Sorrento fare il giro noi siamo stati con una barca a vela inviati di positano news e siamo rimasti letteralmente estrabiliati dalle colonie di albifauna presenti di il cormorano cosa che l'ultima volta l'ho vista in brasilia il cormorano l'ho visto in sud asia adesso trovarlo lì sullo scoglio del la pietra erculea lo scoglio di rovigliano hanno colonizzato abbondantemente questo ci in qualche modo diciamo ci fa capire che la vita comunque voglio dire la bellezza se riusciamo a fargliela conoscere a questi signori si rendono conto della necessità nello stesso tempo supportiamo questo alla vostra relazione quando avete parlato di bere l'acqua del sarno noi l'abbiamo bevuta in una trattoria che il cui le cinque sorgenti località sarno passano proprio sotto questa trattoria purtroppo a vedere immagini dei passanti che ci arrivano dal sarno ma non ci dimentichiamo che il sarno noi abbiamo fatto un gruppo diciamo un gruppo di lavoro su whatsapp come oggi facciamo diciamo per la comunicazione immediata comunicazioni che abbiamo chiamato non a caso il sarno nasce nasce ci è piaciuto tantissimo nella giornata di lavoro l'intervento di raffaele a tardi perché ha chiuso con delle immagini in cui per proprio per mettere fuori gioco una serie di persone che si sono alzati e sono andati via dicendo si tratta di un bla 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 la ci ha mostrato le immagini in cui persone si rimboccano le mani che la domenica mattina in maniera volontaria e vanno a liberare c'è un gruppo di persone che sta ripulendo e sta ricominciando dopo la pausa invernale a liberare solo che a tardi sa bene perché un chimico sa bene che il guaio è nel corpo dell'acqua e quindi perché troviamo elementi e lui citava elementi chimici straordinari che inquinano lungo tutto il tra l'altro nemmeno un corso lunghissimo 24 chilometri di cui i primi due sembrano puri purissimi e poi immediatamente perde l'obiettivo è quello di far ritornare le anguille le più svariate foglie umane da quelle chimiche agli scarti industriali a quello che sono i residui dell'agricoltura della lavorazione del pomodoro e poi ci sono le foglie che insomma voglio dire veramente c'è di tutto gli assenti magari perché o avevano degli scheletri negli armadi o perché non volevano assumersi responsabilità voi mi insegnate oggi vince quella politica dello struzzo questo solco tracciato dalla testa dello struzzo sotto e quindi tutti dietro intanto ci piace questo teorema e noi lo supporteremo con tutte le nostre energie come la regina elisabetta a londra stabilì che gli storioni dovevano risalire il tamigi così la nostra laura vuole che il sarno risalgano le anguille non è bulimoli gli storioni sono fuori dall'ordine vogliamo le anguille perché le possiamo sono commestibili si possono allevare con quelle acque e pensate che cosa significa disinquinamento anziché di avere quell'enorme territorio tutto dedicato ai fiori noi lo avremmo a chilometro quasi zero alla cultura di cose commestibili insalate, carciofi, pinocci come nella Piana del Sele dove immense carciofaie che ai campi ci hanno deliziato gli occhi in questi giorni mentre lì troviamo dei fiori, troviamo la lavanda, troviamo il mercato dei fiori che fa la cepe che le acque non possono essere usate per gli alimenti auguri sempre più in alto